Poi vi leggo la composizione del nuovo governo. Senti, senti, questo è bello. Ministro degli Affari e Gli Esteri, onorevole Antonio Tajani. Andoni, andoni, andoni. Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. Un taglione al riparo. Ministro dell'Economia e delle Finanze, onorevole Giancarlo Giorgetti. Qua mi manca il danaro, mi manca, mi manca. Come è possibile? Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, onorevole Francesco Lollobrigida. Faccio il tipo maggiorato, alla Lollo. Proprio? Sì. Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, senatore Matteo Salvini. Ministro dell'Istruzione, professor Giuseppe Valditara. Lei è la scuola? Eh, alla sua età, ma non si vergogna. Ministro dell'Università e della Ricerca, senatrice Anna Maria Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto e chiamava gli Bermini. Ministro della Cultura, dottor Gennaro Sangiuliano. Eh, lei è ignorante? Io, sì. Bravo. Bravo. Viva l'ignoranza! Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci. La salute come va? Dica 33! 33! Un bel respiro lungo! Vi ringrazio e vi auguro buona serata e buon lavoro. Ma tu stai sentendo? No, sì! Non, sì! La salute eccessità! La salute eccessità! Grazie a tutti